Musica Riprendiamo la trasmissione, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico Perché purtroppo qui a Roma fa parecchio brutto il tempo, temporale, fuori E quindi abbiamo dovuto un attimo sistemare la situazione Riprendiamo la trasmissione, abbiamo in collegamento Matteo Pietrosante Sempre qui con noi, con me c'è Davide Moroni e poi Maximo Organti in studio Eh, papà, senza connessione a internet non puoi trasmettere Eh, non si può Tornata per fortuna Allora, caro Matteo, stiamo parlando di Turbe Ma adesso parliamo anche di Fiorentina-Roma Perché che partita sarà Fiorentina-Roma? Te lo faccio chiedere direttamente dal nostro Davide Esatto, perché Spalletti si è lanciato su un grande turnover Cercando di mantenere freschi i giocatori Perché ci sarà un bel tour de force per la Roma E quindi come vedi lo schieramento migliore secondo te contro la Fiorentina? Se è il caso di rimettere Geko dal primo minuto Eh, se è il caso di vedere specialmente i terzini Peres, Florenzi, come la vedi? Dimmi te, come vorresti lo schieramento? Guarda, io... Guarda, io... Avrei voluto vedere contro il Fistman Questa, diciamo, questa formazione Ecco, con il 3-5-2 Con davanti Geko Perotti o Geko Totti Quindi, diciamo, un attaccante di peso Un altro li fa dalla spalla Da assistman, se vogliamo Esatto Con le posizioni poi dei due Dimmi No, no, mi trovi d'accordo Perché purtroppo secondo me la defesa 3 è ottima Anche perché magari Jesus viene più aiutato dai compagni Anche perché come terzino lo vedo che non sa bene cosa fare Se non riesce a cura né la parte offensiva perché non ha mai spinto Né quella difensiva perché sul gol di Bagos di testa Lui addirittura stava avanti al giocatore Si è fatto scivolare, si è fatto mettere dietro E quello di testa è staccato da solo E Allison era pur da solamente toccare Poi quando tornerà a Rüdiger Sarà ancora meglio, dico Si, assolutamente Anche contro la Sampdoria Lui è fatto da perno agli attaccanti avversari praticamente Cioè c'era lui, lo saltavano tipo perno E continuavano sulla fascia Esatto No, io poi E poi ho visto Mi è piaciuto vedere Come dice In una parte interna del metodo E' fatto E' un valore Perché ero molto curioso E non mi ha fatto una bruttizia Impressione Un giocatore secondo me è molto alto Che in una difesa 2 Essendo più lento Voleva mettersi in difficoltà In una difesa 3 secondo me è un fattore aggiunto Perché appunto Perché può risolvere una serie di situazioni La palla inattiva Insomma Una difesa di quella caratura Di quel peso Può aiutare tanto Detto questo Detto questo Contro la Fiorentina Magari non addarderei il nuovo modulo Ma riproporrei Un appunto Un 433 Io vorrei vedere al posto di Deroosti Al centro Paredes E con l'attacco Io ovviamente i turbi Non lo voglio neanche sentire Nominare Vorrei un attacco di peso Quindi con Ceco Per così Il cambio nel secondo tempo Per entrare fresco Uno potrà esciare A questa là Quindi mettendo praticamente Uno sprint Un po' di corsa Quando i difensori avversari Sono più stanchi E questo mi piacerebbe Vederlo Detto questo La Fiorentina È una formazione Che si è indebolita Rispetto all'anno scorso Paolo Sosa però A me non dispiace Però Io ho paura Che Che questa attiva Possa tramutarsi In un solo punto guadagnato Perché la Fiorentina È comunque Quella Fiorentina È comunque Una squadra ostica Che secondo me In attacco Non è così tanto pericolosa Ma in difesa È ben organizzata E poi Le sue partite Lo dimostrano Cioè La Fiorentina Fa fatica a fare gol Gli manca proprio quella parte Ma in difesa Centrocampo difesa È molto impenetrabbile Ecco perché Come dire Vorrei vedere Questo centro Questo attacco Che poi diventa Più veloce E scattante Perché al secondo tempo Non li può fregare Quell'organizzazione Può venire meno A fronte Di un Dell'inferimento Di una velocità Di un giocatore Come sta là O di cui Come ce l'ha Volendo Certo Quindi Allora Sì Ecco Il punto Sarà Sarà Fare gol E non tanto difenderti E questo mi fa sentire fiducioso Visto che il nostro punto Veramente Secondo me Di debolezza Attualmente È la difesa Quindi Una difesa un po' Così così Con un attacco Che è così così Mi dà fiducia Va bene Va bene Allora Io Se Maxi Non ha domande per te O forse una domanda In chiusura Io volevo solo Chiedere a Matteo Una cosa Ma Non ti sembra che Un po' Una schizofrenia Da parte del tecnico Che fino a due settimane fa Diceva che aveva La rosa più forte Che c'aveva Bella Ed è Poi dopo la partita Con Con il Vittoria Sono diventati tutti Per conto Del tecnico Dei brocchi Guarda Io penso che Alcune dichiarazioni Cioè Io non trovo Che sia stato Esagerato O spettuloso In quella dichiarazione Una dichiarazione Ovviamente fatta Per dare carica Alla squadra Per provare A dare carica Alla squadra Diciamo che Se tu nella presentazione Dici No c'è una squadra Mediocre Non dai la motivazione Giusta Ai tuoi giocatori Poi è ovvio Che A fronte Di una prestazione Come Di Di Pearson Tu Come dire Poi devi anche Prendere atto E quindi Nel post partita Un conto Nel post partita In cui fai una partita Come quella Sono giuste Quelle parole Ora Non brocchi Magari Però Puoi dire Ovviamente Ci sono delle carenze Però Non puoi dirla A priori A priori Tu devi dare carica Alla squadra Pure l'allenatore Dell'Albino Leffi A inizio campionato Dice Che ha una buona Rosa Se no è finita La motivazione Non viene dal Dal mister È finita Proprio Bravo Esattamente Va bene Matteo Allora Noi ti auguriamo Un buonissimo weekend E tanto Poi L'appuntamento Con la Tana dei Lupi Ritorna di martedì O sbaglio Certo Martedì alle nove Puntuale Perché ha mai cambiato Non ha mai cambiato Infatti Ormai Appuntamento fisso Ore 21 E quindi Mi raccomando Seguite la Tana dei Lupi Con Matteo Pietrosante E poi Tantissimi Argomenti Ospiti Sempre aggiornatissimo Giusto Matteo? Certamente Certamente Ciao Matteo Come sempre Ciao a tutti ragazzi Ciao Weekend Ciao a tutti Ciao 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 Allora ragazzi E E' diminuito Diluvio Insomma Ne ha fatta di acqua a Roma Ne ha fatta moltissima di acqua Noi andiamo adesso Subito in pausa musicale Perché poi Dobbiamo affrontare Quello che è invece Caro Maxi E caro Mauro L'argomento Un po' più Delicato Con il nostro Marco Misseri Qua su L'Irofutura Ovvero L'argomento Lazio E poi Anche Faremo un escursus Su quello che è tutta la serie A Perché comunque Marco Si è dimostrato di essere Molto molto obiettivo Su molti temi E quindi Vediamo che ha da raccontarci Il nostro Marco Misseri Direttamente Dalla Nido delle Aquile Intanto i Cosmo Aspetta un attimo Perché God Adesso del Chelsea 1-2 per Liverpool Di Amarca Di Amarca Di Amarca Ma è il 62esimo Sì Te lo dico subito Costa Diego Costa Bene È il solito Diego Costa Altro aggiornamento Betis 2 Granata 2 Ah pareggiato il Betis Con espulsione del Granata Quindi attenzione Tra l'altro segna sempre lui Insomma Diego Costa E beh Sta Sta tornando in auge Quest'anno Ma non c'ha infortuni Ragazzi Ho sfortunato Perché ha troppi infortuni muscolari Poi Si esalta Secondo me Col gioco di Conte Si esalta Come il primo anno Di Murigno Esattamente Allora Andiamo in pausa L'ultima festa I Cosmo Qua su Radio Roma Futura L'abbiamo già sentita L'altra settimana La riproponiamo Ogni volta Che è qua Al Club del Football Su Radio Roma Futura 22.19 Adesso Marco Misseri In collegamento telefonico Quindi state con noi Siamo in diretta Buon Friday night Via È ora di andare via Iniziano a guardarci male Eppure mi sento da Dio E se c'è un limite Lo posso spostare Più là Più là Più là Più giù Bevo la notte Grido Più forte Rido Di te E quando mi dici Che non esisto Tu Sparisci con me Bevo la notte Sfido La morte Rido Perché Il cuore Mi scoppia Picchia Mi porta su E se c'è un limite Via, ci stanno cacciando via Mi sa che chiudono il locale Eppure mi sento da Dio E se c'è un limite lo voglio spostare Più là, più là, più là, più giù Bevo la notte, grido più forte e rido di te E quando mi dici che non esisto tu Sparisci con me Bevo la notte, sfido l'amore e rido perché Il cuore mi scoppa, picchia e mi porta su Mamma mia, mamma mia, mamma mia MaEM, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia I Cosmo, l'ultima festa rientriamo in diretta qua su Radio Roma Futura 22 e 23 per affrontare il secondo collegamento telefonico il secondo ospite di questa serata di questa puntata di Club de Football che abbiamo ripreso da poco la seconda parte qui su Radio Roma Futura abbiamo in ospite in collegamento telefonico Marco Misseri direttamente dal Nido delle Aguile benvenuto Marco buonasera Federico buonasera a tutti i tuoi opinionisti e ascoltatori ciao Marco ciao Davide allora caro noi abbiamo visto già un po' con Matteo Pietrosante quello che sarà la prossima giornata di Serie A ti chiedo in apertura innanzitutto insomma dalla terza giornata di Serie A se è cambiato un po' il tuo parere dalla scorsa settimana o comunque che Serie A continua ad essere e poi se c'è questa settimana qualche partita che secondo te potrebbe essere ovviamente sì sì c'è Inter e Juve però al di là di Inter e Juve magari qualcosa che potrebbe un po' muovere la classifica beh guarda diciamo come come idea non mi allontano molto da quello che che ti ho che ti ho citato la scorsa settimana se non è un campionato tra virgolette anche un pochino divertente molte squadre che almeno in questa fase cercano più di giocarsela piuttosto di pensare al risultato sono convinto che Sassuolo e Torino ancora vengono sottovalutate dall'opinione pubblica secondo me faranno un gran bel campionato il Sassuolo io io